Mattino, qual è il pesce preferito dai frani? Non lo so. Orate e frate. E lo sai qual è il frate cinese più freddoloso? No, qual è? Franella. Ma come franella, scusa? Se è cinese sarà planella. Ecco perché il superiore non ride quando gliele raccontano. Qual è il frate che spaventa i bambini? Qual è? Frankenstein. Eh no, eh. Eh no, eh già. Senti, mi sai dire qual è l'albero preferito dai frati? No. Frassino. Il frassino. Senti, e tu mi sai dire qual è il frate più umido che c'è? Non saprei. Fradicio. Ma come fradicio? Devi dire fradicio, se no non fa ridere. Ah sì, se no non fa. Qual è il frate più rumoroso? Non ho idea. Fracasso. Mi sai dire qual è il frate che sta sempre nelle zone alluvionate? Chi è? Frana. Ah, ma tu lo sai il frate che scrive i proverbi come si chiama? No. Fra moglie e marito non metterci il dito. Sono frastornato. Lo sai come si chiamava quel frate che è andato in pezzi? No. Frammento. E quel frate che va sempre al bar ma non prende alcolici? Come si chiama? Frappè. Può chiedere una cosa? Mi sai dire qual è il frate più elegante? Qual è? Frac. E il frate che va sempre all'estero? Non lo so. Francia. Ma per favore, senti sempre, se per caso ti dovessero fare un'operazione, no? Ti operano, ti taglano, ti tirano fuori tutte le... Come ti chiamerebbero? Lo cambieresti nome? Non saresti più fra marco? Ma sì, come sarei? Fra taglie. Dai, che schifo, Giacomo. Mi hai fatto rile. Aia, ma c'è attento. Scusa, scusa. Scusa, scusa.